Mercoledì 26 agosto 2020. Mancano 127 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno della Vergine. La Chiesa ricorda Sant'Alessandro. L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Alessandro. Il nome, di origine greca, significa difensore degli uomini. Il numero portafortuna è il 2, il colore è il blu e la pietra associata è lo zaffiro. Accadde oggi. Il 26 agosto del 1978, Albino Luciani viene eletto papa col nome di Giovanni Paolo I. Il suo pontificato durerà solo 33 giorni. Chi è nato oggi? Tra i personaggi famosi nati il 26 agosto, ricordiamo, madre Teresa di Calcutta, lo scrittore francese Guillaume Apollinaire. La citazione del giorno. L'unica cura contro la vanità è il riso. E l'unico difetto ridicolo è la vanità. Henri Bersant. Dice il saggio. È difficilissimo parlare molto senza dire qualcosa di troppo. Il bel paese. Il giardino della Kolimbetra, termine greco che indica un tipo di piscina utilizzata per giochi acquatici, è un sito archeologico di grande importanza naturalistica e paesaggistica nel cuore della Valle dei Templi ad Agrigento. Il giardino si estende per poco più di 5 ettari e all'interno si può passeggiare tra una ricca vegetazione agricola con straordinari profumi e colori. In lontananza, la vista dei templi della valle aggiunge grande fascino e suggestione alla visita del giardino.